Al teatro Regrillo di Licata si è svolta una convention elettorale con il candidato alla presidenza della regione per il Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Accanto a lui il leader del Movimento Pentastellato Luigi Di Maio che da un po' di tempo si è trasferito in Sicilia per girare lungo e largo l'isola raggiungendo diverse città. Ieri è toccato a Licata la città di Angelo Cambiano, l'ex sindaco sfiduciato lo scorso 9 agosto che in caso di vittoria elettorale di Cancelleri farà parte di una sua eventuale giunta regionale. Cambiano, ha detto Cancelleri, sarà il sindaco dei sindaci, da assessore agli enti locali si occuperà del coordinamento di tutti i sindaci siciliani. Quando mi insederò alla presenza della regione ha aggiunto la prima legge che firmerò sarà semplice di chiara lettura e di poche righe con questo testo. Nella regione siciliana sono aboliti vitalizi e privilegi per i parlamentari e questa legge la firmerò qui in mezzo a voi tra il popolo. Poi Luigi Di Maio ha raccontato in retroscena che hanno portato alla scelta di Cambiano quale assessore designato di Cancelleri. I due hanno avuto l'intelligenza di telefonarsi, ha detto Di Maio, dopo alcune dichiarazioni di Giancarlo sull'abusismo edilizio. Poi Cambiano è stato sfiduciato e noi siamo venuti a Licata a conoscerlo, così abbiamo deciso di farlo entrare nella nostra squadra. Stamattina Cancelleri e Di Maio sono stati al Cafetain di Canicattì per incontrare gli elettori canicattinesi. Grazie a tutti.